Ho scoperto la crescita personale nel 2018 e con essa un'abitudine incredibile, ovvero quella dell'alzarmi prima dell'alba. Per raggiungere però questo obiettivo ed essere soprattutto costante nell'alzarmi così presto, ho adottato una tecnica che oggi voglio condividere con voi. Ed è proprio il verbo condividere che rappresenta al meglio questa tecnica. Sto parlando infatti della condivisione di un obiettivo, ovvero una sorta di dichiarazione di intenti, cioè di dichiarare cosa si vuole fare oppure cosa si vuole raggiungere, se la mettiamo dal punto di vista degli obiettivi. Quindi condividere qualcosa, come per esempio un progetto o, vi ripeto, un obiettivo, è il primo passo per la concretizzazione. Vediamo come condividere mi ha aiutato ad alzarmi presto. Se mi segui su Instagram saprai già che quasi ogni giorno condivido una storia con l'orario in cui mi alzo. Ebbene, realizzo questa storia ormai da anni. Prima condividendo il mio orario in cui mi alzavo, che era quello delle 5 del mattino, e poi alle 4.30 del mattino. Avevo condiviso con i miei follower questo obiettivo, ovvero quello di alzarmi così presto e di condividere la storia ogni giorno per dimostrare che effettivamente io mi alzassi a quell'orario lì. Tant'è che ho realizzato tantissimi contenuti poi sulla morning routine, su come alzarsi presto, proprio partendo da quella storia lì. Quindi l'alzarmi presto è stato dovuto in parte anche a questa condivisione e la costanza che ho mantenuto nell'alzarmi così presto anche deriva dalla storia che ho messo. Perché avevo proprio dichiarato questo mio intento di alzarmi così presto. Per evitare una figuraccia, inizialmente ha fatto sì che io mi alzassi così presto. Dato che appunto avevo preso questo impegno, quindi il condividere con gli altri i propri obiettivi, i propri progetti, i propri desideri, in questo caso quello dell'alzarsi presto, sicuramente aiuta. E oggi sono qui proprio per dichiarare un altro intento, che è quello di creare un contenuto al giorno, tra YouTube ed Instagram, riguardante la crescita personale. Quindi se avete delle idee oppure delle problematiche che volete che io risolva, scrivetele qui sotto nei commenti, poiché d'ora in poi le risolverò per creare molti contenuti, per un totale, mi auguro, di 30 contenuti in 30 giorni. Quindi diamo il via a questa sfida con questo messaggio importantissimo che è quello della condivisione. Fatemi sapere che cosa ne pensiate qui sotto con un commento. Ovviamente potete condividere con le persone care un vostro obiettivo, con un amico, con un'amica, con il vostro fidanzato, con la vostra fidanzata. È importantissimo però che condividiate questi progetti. Perché? Perché in primis, come vi ho detto, evitare di fare una figuraccia sicuramente aiuta, dopodiché vi prendete un impegno. Meglio ancora se, per esempio, facciamo che lo diciate ad un vostro amico, voi e il vostro amico, condividiate lo stesso obiettivo. Vi aiuterete, vi supporterete tantissimo, quindi qui la condivisione diventa doppia e il fare una figuraccia c'è ad ambe e due le parti. Quindi c'è ancora più responsabilità, c'è ancora più motivazione. Considerando che la motivazione è un qualcosa di molto labile e io, come ripeto sempre, non è un qualcosa su cui punto. Cioè non è che io mi alzo alle 4.30 del mattino perché sono motivato, anche a me piacerebbe stare al calduccio sotto le coperte. Quindi non va ricercata la motivazione. Ma in una fase iniziale, quella in cui magari ci si avvicina per la prima volta alla crescita personale, sicuramente, quando non si è esperti, trovare la motivazione e la condivisione un pochino aiuta.